Allora, diciamo una preghiera vicino alla Madonna. Diciamo una preghiera? No, no, sì, diciamolo qua vicino alla Madonna. Padre, Spirito Santo, Amen. Piene di grazia, il Signore è con te. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi pecatori. Adesso è l'ora della nostra morte, Amen. O Maria, concepita senza peccato, prega per noi che ricuriamo a te. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen.